Allora, com'è che gli Stati Uniti stanno declinando in quanto potenza gemone è un argomento decisamente vasto, quindi ne darò una descrizione, diciamo così, impressionistica, anche per problemi di tempo. Sì, dicevo una descrizione un po' impressionistica, non altamente sistematica. Grosso modo si può dire che gli Stati Uniti sono diventati adesso vittime degli stessi meccanismi che avevano prodotto la sua egemonia globale nel corso della seconda metà del Novecento. A partire da quel patto di ferro stretto nel 1945, addirittura tra Ibn al-Saud e Roosevelt, per cui i sauditi accettavano, si impegnavano a vendere greggio soltanto in dollari a chiunque. Successivamente un altro meccanismo è stato quello del 1971, in cui gli Stati Uniti hanno cancellato la parità tra dollaro e oro e quindi la convertibilità della loro moneta in oro e da quel momento il dollaro è diventato una moneta flat, cioè l'unica moneta nazionale, cioè circolante all'interno di un paese che era anche per tutto il mondo contemporaneamente un mezzo di pagamento, una misura del valore e una valuta di riserva, cioè si potevano utilizzare in dollari grandi fortune. La cancellazione della parità avrebbe presupposto una svalutazione del dollaro, è inizialmente andata così ma per pochissimo tempo, perché subito dopo con la crisi petrolifera del 1973 e la rivalutazione del prezzo del petrolio oltre il 400%, passato praticamente da 2 dollari e 10 al barile in pochi giorni, quella che sarebbe stata un problema per gli Stati Uniti, cioè una moneta che si svalutava è diventato un problema per il mondo, perché ha esportato inflazione in tutto il mondo, perché? Perché il petrolio è una materia energetica e il prezzo dell'energia entra nel prezzo di tutte le merci, quindi se si quadruplica il prezzo del petrolio automaticamente aumentano di prezzo tutte le merci di qualsiasi paese e per qualsiasi paese. negli stessi anni, nel 1973, viene creato anche un altro meccanismo che diventerà obbligante per tutto il mondo, che è il codice SWIFT, cioè il sistema dei pagamenti internazionali, che formalmente è stato autonomo fino al 2001, poi è stato portato direttamente sotto il controllo statunitense, perché con gli attentati alle torri gemelle era diventato imprescindibile controllare i flussi di denaro da e per gli eventuali terroristi e quindi quello che era comunque un mezzo privilegiato per gli Stati Uniti è diventato un mezzo sotto controllo totale degli Stati Uniti. L'altro meccanismo, più che un meccanismo, è stato un procedimento. Negli anni 80, un violento aumento dei tassi di interesse decretato dalla Federal Reserve statunitense al tempo di Reagan, che porta i tassi di interesse quasi al 20%, e con questo meccanismo viene rastrellata gran parte dei capitali in giro per il mondo occidentale, tranne quello che allora c'era ancora l'Unione Sovietica, e con questo rastrellamento dei capitali viene finanziata la corsa degli armamenti che porta poi alla caduta dell'Unione Sovietica, che non riesce a stargli dietro e si esaurisce quell'esperienza. Questa concentrazione di capitali degli Stati Uniti però ha i suoi effetti collaterali negativi. Il dollaro diventa fortissimo e diventa non conveniente produrre negli Stati Uniti e comincia quel processo di delocalizzazione che poi esploderà negli anni 90, per cui gran parte delle industrie statunitensi vanno a produrre altrove. Con il dollaro forte l'altra conseguenza positiva per gli Stati Uniti era che si poteva mantenere un livello di consenso interno alto, perché con quegli stessi dollari delle buste paga che sostanzialmente sono bloccate da allora anche per gli Stati Uniti, si potevano comprare più merci, perché se la moneta è forte e quindi ti puoi permettere di mantenere un livello di vita decente anche se i sei sei dollari non aumentano. Ovviamente il lato negativo di questa forza del dollaro era una bilancia commerciale sbilanciatissima, gli Stati Uniti importavano e consumavano da tutto il mondo, ma esportavano sempre meno anche perché le industrie andavano a produrre altrove. Ci fu l'accordo del Plaza nel 1985 che impose una svalutazione in questa volta del dollaro per rendere più competitivi le merci americane, anche se questo frenò soltanto il deflusso di industrie dal territorio americano, perché una volta che le industrie hanno delocalizzato non è che tornano indietro e ricominciano da capo. Il successo finale è stata ovviamente la caduta del socialismo reale, dall'89 al 91 il dollaro non ha più avversari nel mondo, è un dominio assoluto ed è la fase che conosciamo come il periodo della globalizzazione. Nel 99 poi Clinton abolisce il Glass-Steagall Act, che era una legge che impediva alle banche commerciali di fare anche la raccolta di risparmi e viceversa, perché questo era un freno alla speculazione finanziaria. Era una legge fatta nel 1933, dopo la crisi del 1929, aveva tenuto al riparo l'attività delle banche che fanno raccolta di risparmi e prestiti a famiglie e imprese, aveva tenuto al riparo dalla speculazione finanziaria di cui si occupavano solo le banche d'affari, cioè Goldman Sachs, Lehman Brothers e così via, JP Morgan, quelle famose per questo. Clinton abolisce la separazione e quindi la speculazione finanziaria può diventare totalmente libera. Si realizza il sogno di fare denaro con il denaro, che in termini marxiani sarebbe di di primo, senza passare per M, cioè per la merce, anche perché il meccanismo dei profitti finanziari o delle plusvalenze finanziarie è rapidissimo. Se non devi passare per la produzione della merce, la circolazione, la messa in vendita, gli incassi e poi dopo vedi quanto hai guadagnato, questi sono tempi lunghi. Invece con la finanza fai un clic, i soldi si spostano e tu prendi la tua parte. Ovviamente tutto questo gioco ha comportato l'esplosione in una serie di bolle finanziarie e cominciate subito proprio. Nel 99 aboliscono il Glass Stigalact, nel 2001 già c'è la prima crisi della net economy e da lì in poi è una frana continua. Nel 2007 c'è l'esplosione di, nel 2008 c'è l'esplosione di Lehman Brothers a seguito della crisi dei subprime, tutta una lunga serie di quasi fallimenti finanziari che il governo degli Stati Uniti aveva impedito salvando queste banche interne o anche banche speculative. Quando arriva Lehman Brothers gli Stati Uniti dicono Gnaf, ma salva pure questi e lì per chi c'era, chi se lo ricorda, per una settimana il mondo si è fermato perché se salta la quarta banca del mondo e nessuno sa quali saranno le conseguenze, effettivamente l'attività economica ha subito un certo scossone globale. Sappiamo qual è stata la cura successiva perché continua ancora oggi che è il quantitative easing, cioè le banche centrali, Stati Uniti, BCE, quelle inglese e così via, iniettano liquidità nel sistema finanziario per far sì che il sistema finanziario non crolli. Le iniezioni di liquidità però significa stampare denaro, detto volgarmente, gli economisti sicuramente inorridiscono alla definizione, però di questo si tratta, cioè creare moneta per permettere che la liquidità circoli e che le banche speculative, i gruppi speculativi non falliscano trascinando con sé anche le industrie fisiche, le industrie reali. Ora però con la pandemia tutta questa circolazione, lo stiamo vedendo con l'aumento dei prezzi tende a trasformarsi in inflazione, che era un fenomeno che era sparito dalla fine degli anni 90. I prezzi aumentano, soprattutto quelli energetici, perché c'è la ripresa, tutti quanti vogliono il prima possibile materie prime, materie energetiche, semiconduttori, tutto quello che serve e ovviamente con la lunga fase del just in time in cui la produzione veniva fatta solo su ordinazione, i magazzini erano vuoti, non è facile rispondere immediatamente a un incremento della domanda. Bisogna produrla, il petrolio va estratto, va caricato sulle navi, va fatto attraversare gli oceani. Questa cosa comporta che i prezzi salgono fino a che non si riprende con i livelli di produzione normale di tutta una serie di merci. Però intanto il mondo si è rovesciato, perché appunto la finanza è diventata un'industria a sé stante e le iniezioni di liquidità hanno aumentato in maniera esponenziale questo processo. Una prova l'abbiamo nel settore automobilistico, che è quello storico, il pilastro centrale della produzione capitalistica del Novecento, e lo abbiamo vedendo il rapporto che c'è tra il fatturato e la capitalizzazione di borsa, cioè quanto vale una certa industria automobilistica in borsa come valore azionario. Allora l'industria che vale di più in questo momento è Tesla, che capitalizza circa mille miliardi di dollari in borsa, pur avendo un fatturato annuo che è intorno a 31 miliardi di fatturato. Probabilmente i ricavi saranno 1 miliardo, 2 miliardi. Il rapporto considerato sano tra profitti e capitalizzazione è 1 a 16, quindi in teoria Tesla non dovrebbe valere più di 30-40 miliardi in borsa, vale mille. Se pensiamo che Toyota, che è il gruppo più grande del mondo automobilistico, che fattura 275 miliardi e vale in borsa solo 244, si capisce che c'è qualcosa che non va. Cioè l'azienda che vale di più è quella che vende di meno. Addirittura al quarto posto c'è una cosa che nessuno di voi conosce, Rivian, che è una fabbrica di SUV che li vende solo ai dipendenti. E quella fabbrica di SUV che vende solo ai dipendenti, ovviamente sono SUV elettrici, ipertecnologici eccetera eccetera, vale più di Mercedes in borsa. È il mondo rovesciato per l'appunto. Del resto in questi anni abbiamo visto che il costo del denaro è sceso sotto zero. Cioè se uno comprava ad esempio titoli di Stato tedeschi ci rimetteva, anzi ci rimette ancora, perché rendono meno di zero. Quindi tu compri 100 euro di titoli di Stato tedeschi e accetti di riceverne in cambio a scadenza 99, perché così sei sicuro che almeno quelli rientrano perché tutto il resto è incerto. Quindi sommariamente abbiamo questa lista di meccanismi che hanno fatto l'egemonia americana che sono il ruolo centrale del dollaro, una crescita tirata dal debito monetario, tanto i dollari li stampavano loro, un accordo di ferro con l'Arabia Saudita che permetteva il controllo del mercato petrolifero, la superiorità tecnologica nella ricerca scientifica, quindi la superiorità militare e la capacità di proiezione di forza su tutto il pianeta e un consenso sociale fondato sul benessere, perché sicuramente era ed è ancora l'economia più forte, perlomeno nel rapporto pil pro capite. Ma tutto ciò non dura per sempre. Il dollaro è un po' meno centrale. Ieri Luciano ha spiegato chiaramente che altre monete, l'euro e l'uruan, un renminbi cinese, stanno acquisendo posizioni anche come moneta di riserva, oltre che come mezzo di pagamento internazionale. Nel marzo del 2018, questo pure l'aveva ricordato Luciano, la Cina ha aperto a Shanghai il primo mercato dei futures sul petrolio, denominati in yuan e non in dollari. Questo permetterà a paesi come il Venezuela e altri di commercializzare il proprio greggio senza passare per il codice SWIFT e quindi senza passare per il dollaro. Contemporaneamente tutta una serie di paesi non avranno più bisogno di comprare dollari per comprare petrolio. Compreranno yuan per comprare petrolio e la forza del dollaro diminuisce in quel caso. La Cina ha fatto anche un'altra cattiveria. Ha creato un proprio codice per le transazioni internazionali che è alternativo allo SWIFT, si chiama CHIPS come acronimo perché sarebbe la Clearing House International Payment System e anche questo passa attraverso gli yuan e non attraverso i dollari. L'Arabia Saudita minaccia di rompere lo storico accordo perché gli Stati Uniti hanno ripreso a produrre, hanno cercato l'autonomia petrolifera e quindi hanno ripreso a estrarre greggio, ma visto che l'avano finito lo fanno col sistema del fracking per prendere il petrolio e il gas di scisto e quindi c'è un rischio che l'accordo, tanto si era capito già con Al-Qaeda che tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti non correva a buon sangue, adesso rischiano di arrivare ai ferricorti anche sul piano del controllo del mercato petrolifero. Tant'è vero che l'Arabia Saudita ha fatto un accordo con la Cina per vendere petrolio a Pechino, ovviamente in yuan e non in dollari. Però sappiamo pure che per esempio la conquista dello spazio, quindi la ricerca scientifica, sia quella pura, sia quella applicata, quindi tecnologie, gli Stati Uniti hanno di fatto mollato da molti anni. Adesso negli Stati Uniti andare nello spazio è un gioco per ricchi, cioè Elon Musk, Jeff Bezos fanno i loro missiletti, vanno in orbita o perlomeno laddove non c'è più la forza gradiente, è diventato un divertimento per ricchi, non è più un fattore trainante dello sviluppo tecnologico e della ricerca scientifica. Invece la Cina è arrivata sulla parte scura della Luna, che era una cosa considerata difficilissima perché le comunicazioni, se c'è la Luna di mezzo, non funzionano tanto e invece ci sono riusciti. Sul piano tecnologico, tutta la guerra del 5G contro Huawei è per un fatto che hanno riconosciuto anche gli europei, cioè il sistema 5G di Huawei costa meno e funziona meglio di quelli statunitensi, che infatti ancora non sono arrivati a completare i loro prodotti. Anche sul piano militare gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta, l'abbiamo visto in Afghanistan, una fuga davanti a un esercito di pecorai sostanzialmente, certo non un esercito avanzato e questa cosa mette fine anche a un altro ciclo della storia militare che era cominciato con un'altra sconfitta storica negli Stati Uniti, quella in Viettana, ma che era stata l'ultima guerra combattuta con i soldati di leva, in cui gli unici professionisti erano i gradi alti, i tecnici, i piloti da aereo, eccetera, mentre la truppa erano soldati di leva, cioè ragazzi come voi che venivano obbligati a fare il servizio militare e andare in guerra. Da allora e fino adesso abbiamo avuto gli eserciti di professionisti molto più snelli, molto più efficienti, molto più tecnologizzati, molto più addestrati ovviamente, abbiamo avuto la guerra con i droni, ma con i droni non si costruiscono le nazioni, si possono distruggere gli Stati, quindi le infrastrutture, le gerarchie di comando, eccetera, e fare dei paesi, come dire, completamente devastati, abbiamo visto in Libia, abbiamo visto in Iraq, abbiamo visto anche in Afghanistan, dove però non riesci a costruire il tuo personale politico e la tua nazione, sì, cerco di andare più veloce. Quindi grossa parte di questi pilastri dell'egemonia che stanno in evidenza sono andati smarrendosi nel corso degli anni. Al centro di questo indebolimento c'è un fatto paradossale che è l'indebolimento della funzione pubblica proprio negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti, da lì è tutto partito. Perché se si privatizza e si tagliano le tasse, la capacità di programmazione strategica viene meno, perché gli strumenti che hai per gestire lo sviluppo del Paese passano di mano, passano ai mercati che, come ci spiegano sempre, non hanno un'azione. Il mercato va dove si fanno i soldi, poi certo è importante che negli Stati Uniti ci sia un certo tipo di governo politico perché ti permette il controllo militare e quindi ti permette di andare in giro per il mondo dicendo io sono americano quindi attenti a quello che fate e qui comando io. Però anche nella formazione della classe dirigente c'è stato un passaggio chiave, cioè sempre più spesso, a parte Biden che è un vecchio praticante della politica, abbiamo visto presidenti e vicepresidenti e ministri che passavano tranquillamente dai consigli di amministrazione di qualche azienda alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Dick Cheney era l'amministratore delegato di Ali Barton che è una società petrolifera, è diventato vicepresidente degli Stati Uniti, è stato anche ministro della difesa, poi è tornato a fare l'amministratore delegato, cioè non sono più politici con una visione, sono uomini d'affari che dispongono della macchina statale per le esigenze delle grandi imprese multinazionali. soprattutto è venuto meno negli Stati Uniti il consenso sociale. Nella tabella che possiamo vedere che sono le statistiche del Dipartimento del Lavoro statunitense, il tasso di disoccupazione ufficiale a ottobre di quest'anno era il 4,6%, praticamente 7 milioni e mezzo di persone, per un paese di 329 milioni di abitanti è effettivamente un tasso di disoccupazione basso, però se andate a vedere la riga dove c'è scritto not in labor force, cioè forza che non è al lavoro, abbiamo la cifra di 100 milioni e 450 mila persone, cioè negli Stati Uniti, 329 milioni di abitanti, 108 milioni di persone non lavorano, come spreco di energie, di intelligenza, di forze notevole e questa cosa ovviamente ha un peso anche sul consenso sociale. L'assalto a Capitol Hill di gennaio di quest'anno, all'ultradestra, sì sì, però erano bianchi poveri americani in gran parte, cioè la fascia privilegiata della popolazione statunitense adesso non è più privilegiata e si sta incazzando, questa cosa ha pesanti conseguenti appunto sul consenso e quindi anche sulla capacità politica di gestire l'egemonia nel mondo. Per concludere, il nodo storico con cui gli Stati Uniti risolvevano di solito le loro crisi era buttarla in caciara, che è espressione romana, la spiega meglio Guido Salerno Aletta che è un editorialista di Milano Finanza. Buttarla in caciara significa questo, creare un numero di focolai di crisi che deve essere talmente elevato da rendere impossibili risposte razionali. Ognuno è fatti potenzialmente incompatibile con le altre soluzioni. Le variabili e le loro interconnessioni si moltiplicano a dismisura. Un nuovo ordine oltre il caos, per mezzo del caos. Il gusto per il rischio degli investitori in una situazione come questa, con una crisi che deflaga dopo l'altra, svanisce. Meglio investire in dollari che correre i rischi sempre più probabili. Quindi quella che sembrava una cosa irrazionale, buttarla in caciara, creare altre crisi, si risolveva in una cosa razionalissima. Tutti correvano sotto l'ombrello del dollaro e riportavano la gestione della crisi di nuovo nelle mani degli Stati Uniti. Però, come abbiamo visto, tutta questa strumentazione e tutti quei pilastri non sono più totalmente nelle mani degli Stati Uniti. In ogni campo, dal dollaro al petrolio, anche al campo militare, alle tecnologie, ci sono dei competitori all'altezza, ancora più deboli, ma sempre meno, e che quindi mettono in discussione quella capacità di fare continuamente rubamazzo sui mercati e nel mondo che ha costruito l'egemonia degli Stati Uniti. Perché appunto è un'egemonia che non è più basata su una visione politica, geostrategica, è basata su interessi di breve periodo, di multinazionali fondamentalmente e questo impedisce di fare l'egemonia. Ti permette di essere forte, certo, ma non ti permette di costruire nazioni, alleanze, anzi le vai rovinando dappertutto, come si vede persino con l'Europa.